Il fitto calendario della Serie C almeno un vantaggio ce l'ha. Una squadra che ha fatto un passo falso ha subito l'occasione di lasciarsi la delusione e le scorie alle spalle e ripartire. È l'occasione che domenica sera al Port Elisa avrà la Lucchese, reduce dalla deludente prestazione di Rimini, sia pure condizionata dalle molte assenze. Contro il Pontedera Gorgone vuole rivedere lo spirito che i rossoneri hanno messo nel primo scorcio di campionato, anche perché la squadra di Catalano è da prendere con le molle. Il Pontedera è una squadra che gioca da sempre. Il Pontedera mi ricorda le Cittadella, il Chievo come ambiente. Sono squadre che vivono in maniera molto serena qualsiasi cosa, perdono 4-1 col Pineto e non succede niente. È una squadra che gioca bene, che ha qualità, ha individualità, quindi dovrà essere affrontata con molta attenzione perché non è una squadra che specula, anzi è abbastanza coraggiosa, gioca e ha qualità. In squadra torneranno Tiritiello, Russo e forse anche De Maria, apparso e recuperato, ma mancheranno ben assai Visconti e Sabbione. In pol per un posto tra gli undici sembra esserci Gibril. Noi dovremmo ripartire con chi abbiamo, valuteremo oggi come sta De Maria che ieri si è allenato e poi qualcuno riposerà, qualcuno continuerà a giocare. E niente, ce la giochiamo, non devono perdere loro l'entusiasmo, che non vuol dire entusiasmo però essere così sprovveduti e non pensare che le altre squadre sono squadre attrezzate. Sempre ricordandoci che girone abbiamo, perché io me lo ricordo sempre che girone c'è, sempre.